Dal 18 giugno 2011, Piazza Grande letteralmente invasa dai colori rosso-verdi, così tra urla e lacrime di gioia avevamo lasciato la lizza lo scorso 20 giugno quando il 5, marcato da Alessandro Vannozzi, aveva regalato la lancia d'oro al quartiere di Porta Crucifera. A distanza di poco più di due mesi la città si prepara nuovamente a vivere la rievocazione storica divenuta simbolo di Arezzo, con l'edizione numero 130 alle porte. Quartieri pronti dunque a sfidarsi per portare nella propria rastrelliera l'ambito trofeo che per la giostra della Madonna del Conforto del prossimo 6 settembre sarà dedicata al senatore aretino Giovanni Severi. Non dovrebbero esserci sorprese per quanto riguarda le coppie di cavalieri che i quartieri decideranno di mandare lancia in resta contro Re Buratto. Alcune modifiche potrebbero essere invece previste per la prova generale. Gli aretini potranno cominciare a respirare aria di giostra già a partire da domenica 30 agosto con la cerimonia di estrazione delle carriere e il giuramento dei capitani. Tra le novità che caratterizzeranno la prossima edizione, la riduzione del numero dei posti che fino a giugno scorso erano riservati agli ospiti del sindaco. Le postazioni ridotte alla metà verranno messe in vendita al prezzo di 80 euro ciascuna. In cantiere poi per il 2016 la proposta da parte dell'assessore alla giostra Gianfrancesco Gamurrini di una festa medievale da realizzare nella seconda metà di luglio e che colori tutto il centro storico fin dentro la fortezza coinvolgendo insieme al comune anche quartieri e associazioni di categoria. Intanto a partire da giovedì 27 agosto sarà possibile acquistare i biglietti per la giostra del Saracino. I tagliandi saranno messi in vendita nei locali del teatro comunale Pietro Aretino in via Bicchieraia.